salve a tutti ragazzi belle brutti iscritti video bentornati su giovecadispo io sono giovispo questo è il Neymar Road to Brazil scusate l'inceppamento vabbè sto andando ad acquistare in questo episodio Giorginio me l'avete consigliato e io ho preso in carico questo consiglio anche oggi purtroppo il mio legato mi ha dato parecchi problemi alcune clip purtroppo non sono uscite a registrarle infatti mi hanno addirittura fatto un gol perché non riuscivo a vederlo a servizio ma certo vabbè poi mi state vedendo infatti 1 a 1 però Neymar 2 a 1 e si riporta in vantaggio volevo dirvi di per il prossimo episodio mi ha riparci quanta likes e benessi 50 perché sono tante che vi piace quindi vi chiedo massima attenzione massima come posso dire voglio che siate più coinvolti lasciate mi piace e commentate con un giocatore argento centrocampista un giocatore argento brasiliano entrambi difensore quindi commentati tanti gol Neymar arriviamo a 50 max per il prossimo episodio arriva il 2 a 1 del nostro avversario con lucas arriva il 2 a 2 con non so chi chi era con mike husserl arriva anche il 3 a 2 con Neymar su vabbè poi arriva anche il 5 a 2 con Neymar in pratica finisce 8 a 2 ha fatto tipo tre gol al novantesimo una cosa assurda dura troppo tempo il recupero c'è come cazzo si fattura così tanto vabbè vado a comprare dal ligno perché l'esterno destro che avevo l'esterno che avevo l'esterno che cazzo è essere fortunato incontriamo questa sua parte e da qui iniziano ad essere tutte ore vabbè prima cosa arriva con vodka bel tiro veramente blotti non so come cazzo si che vuoi poi questo tipo fabiano fuori colpo di testa sta dormendo in piedi di quello che stava sul palo vabbè 2 a 1 arriva anche quest'altro gol non so perché il portiere ogni tanto si buttano a cazzo di cane troppo finisce anche questa 3 a 1 siamo arrivati a 9 punti prossimo avviso altra ora ho connetto company check e chi più ne ha più ne metto prima dalla riba con danilinio che approfitta della rispinta malandosa di check arriva anche l'ora una luna a uno con hernandez portiere paragon fa il primo la prima parata e poi non fa più niente qua per neymar appena segnatemi verso il numero di neymar numero di neymar a terra il difensore numero di neymar ancora neymar neymar numero di neymar neymar il tiro a giro non da fare subito in vantaggio poi arriva anche l'altro gol di neymar più tardi al 65esimo arriva anche questo bel pallonetto di danilinio con il suo 69 di tiro dovrebbe avere vabbè in pratica questa partita è devastante neymar finisce 4 a 1 ci portano in zona promozione allora dobbiamo ambire al tito anche se lo vedo difficile perchè incontriamo un'altra oro perché d'ora in avanti secondo me saranno tutte oro primo gol però arrivo da me con non so chi cacchio ha tirato vabbè poi arriva anche il gol di benattia davis e se ne va a cazzi di cana a cazzi suoi vabbè poi arriva anche un altro gol di iguain al 27esimo arriva anche il gol di neymar con insomma il tiro 5 stelle e the double si sentono tutte arriva questo bel gol con le shout out a bai e fabiano non può farci nulla arriva anche il giro di guacchino la difesa ormai se ne va pure lui loro a tutti e mi ripenzo tutti la cappa di cazzi loro si andavano vabbè dettagli dettagli bene ragazzi questo video si conclude spero vi vi sia piaciuto se lo scatto se usate per la brevità ci vediamo domenica con il nuovo video arriviamo a 50 likes per il prossimo episodio commentate con giocatori agenti difensori brasiliani difensori centrocampisti ci vediamo domani con un nuovo video ciao bella a tutti e al prossimo video